buongiorno a tutti faccio un video sull'intelligenza artificiale che è l'argomento che ormai da un annetto forse un po di più sta tenendo banco e di come ci sia un grande dibattito sul fatto che due cose uno quanto essa possa diventare prima o poi una sostituta cognitiva dell'essere umano cioè essere in grado praticamente di replicare in toto quelle che sono le funzionalità cognitive umane quindi avere degli esseri senzienti consapevoli autocoscienti che non siano su unità biologica e non siano esseri umani e questo è un discorso che si fa da molto tempo c'è chi dice che non è assolutamente possibile ancora adesso a livello teorico c'è chi dai tempi di Turing dice che fondamentalmente la mente non è altro che un computer molto complesso e che quindi è replicabile anche su base elettronica o di altro tipo. Tendenzialmente io presumo che sia vera questa considerazione, questa interpretazione qui e penso che alla base del rifiuto di questa cosa ci sia molto uno sciovinismo biologico umano per cui noi dovremmo essere, noi esseri umani dovremmo essere straordinariamente speciali cosa che è che quindi crea uno stress diciamo da un buddista di accettazione. La scienza se ci ha abituato a una cosa è stato quello di spogliarsi, spogliarci del nostro del nostro sciovinismo se non egocentrico almeno umano centrico. Inizialmente pensavamo di essere al centro dell'universo con la terra eccetera, secondariamente pensavamo di essere animali profondamente razionali e solo razionali. Nel primo caso è stato fatto saltare da Copernico, nel secondo caso è stato fatto saltare da Freud con tutti i limiti di Freud ma che comunque ci ha insegnato che siamo animali non così razionali, non così perfettamente consapevoli dello stesso e così via. Pensavamo di essere biologicamente molto speciali, diversi da tutti gli altri animali, a questo ci ha pensato Darwin e quindi diciamo che la storia della scienza è un continuo, non solo è difficile trovare, andare a leggere la realtà, la verità, ma per farlo accettare questo strano essere che è l'essere umano bisogna vincere delle resistenze, delle difese. Però la mia impressione è che la cosa migliore sia non mettere troppe difese, tanto prima o poi bisogna accettarlo. Capisco che è difficile e quindi le difese ci stanno e fanno parte della biologia, della psicologia umana soprattutto. Di questo ho parlato altre volte. Quindi io penso comunque fondamentalmente che sia che la coscienza umana, l'intelligenza sicuramente, siano replicabili, non c'è tanto da scandalizzarsene, poi la prova non credo ci sia ancora perché non abbiamo un computer che è in grado di replicare completamente una personalità umana, fermo restando che c'è da dire una cosa anche. Non è che l'intelligenza e la coscienza e la consapevolezza siano solo quelle che abbiamo noi. Possono essercene forme diverse, quindi mi viene un po' in mente lo sciovinismo automatico anche in questo senso che avevano i coloni europei quando andavano nei paesi, soprattutto nell'Africa ma anche di altri posti, in cui intanto l'indigeno parlava male ovviamente la lingua del colonizzatore e diceva vabbè sono indigeni. In più quando studiavano la lingua del colonizzato dicevano sì ma qui non ci sono le strutture grammaticali come la nostra, quindi non è una lingua, è una pseudo lingua, è una sciocchezza. Non è che siccome noi abbiamo il medio passivo, adesso noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo il futuro in un certo modo, allora una lingua che non ha il futuro, non è una lingua come il nostro almeno, non è una lingua, esprime il concetto di futuro in maniera diversa. Ci sono lingue che il latino stesso arrivò al futuro molto tardi, tant'è che venne costruito sulla base del congiuntivo ed è per questo che poi se andiamo ad analizzare l'evoluzione del latino troviamo il futuro di tutte le lingue neolatine che non è costruito sul futuro latino. Perché? Perché probabilmente nella lingua parlata in tutti i giorni non veniva usato. Essendo giusto digressione linguistica se andiamo a vedere tutti i futuri delle lingue neolatine sono costruiti sul base, con la base del verbo avere, ok? Amerò è io amare ho, ok? Questo vale per l'italiano, spagnolo, francese e così via. Cioè ad un certo punto si è cominciato a usare il verbo avere con funzionalità di futuro posposto al verbo. E poi ovviamente si è contratto ed siamo arrivati a questa costruzione. Il rumeno non lo fa in questa maniera, ha usato un'altra forma di futuro. Il tedesco e il latino usano un futuro perifrastico, quindi si vede che non si è ancora evoluto in un tempo proprio vero e proprio perché viene appoggiato da un altro verbo. È un esempio generale, quindi noi tendiamo a vedere questo che è un concetto da cui mi è molto caro. Tendiamo a vedere il nostro modo di essere come l'unico giusto. Ciao, ciaoone, non è così, dopo viva. Credo che quindi sia possibile, ritornando al discorso principale, costruire una consapevolezza e un'intelligenza non umana, probabilmente anche simulare esattamente quella che è l'esperienza umana. Non ne ho la certezza, si vedrà. Se si riuscirà la prova del 9 a vedere se è possibile con il test di Turing, magari un po' più complesso del test di Turing per vedere se questo ci si arriva. Credo che sia possibile senza tanti sciovinismi e ci si arriverà, salvo collassi economici di altro tipo. Che cosa questo comporterà? Allora, già adesso a livello economico e a livello sociale noi abbiamo delle macchine che fanno il lavoro degli uomini. Dal barista automatico, che sono banalmente le macchinette da cui prendi il caffè, quel caffè che prendi alla macchinetta non lo prendi al bar. Quindi quello è un euro di lavoro della commessa del barista che non c'ha. Ed è una fatica della commessa di mettere la cialda che non fa. Lo stesso vale per i bancomat, lo stesso vale per i distributori automatici di benzina e così via. Non c'è il commesso. Ti fa il prezzo, ti riempie la pompa, un domani probabilmente ci saranno delle pompe che ti si inseriscono direttamente nella macchina, non lo so, saranno più automatizzate, si può fare. Già si sta facendo da anni. Oggi abbiamo delle, grazie all'intelligenza artificiale, quindi una maggiore complessità, con questo approccio euristico che è quello poi dell'essere umano. Perché secondo me l'essere umano è un'intelligenza euristica, cioè mette insieme tanti concetti insieme, da questi estrapola poi una sintesi. Abbiamo delle possibilità di avere dei giornalisti, degli scrittori, un domani ci può essere, non è difficile oggi fare un simulare una persona, anche che non esiste, quindi con fattizze completamente costruite da zero, con l'intelligenza artificiale, cioè non una foto di una persona. Una persona che non esiste, ma tu simuli il viso o tutto il corpo di una persona e le fai fare dei ragionamenti. O la fai semplicemente rispondere a domande, banalmente uno psicanalista o un professore di intelligenza artificiale sono potenzialmente facilmente realizzabili oggi e lo saranno sempre di più. Che cosa comporterà questo? Quindi poi ovviamente, inutile dire, sappiamo già che c'è la possibilità di avere piloti automatici nei camion, nelle macchine, che sono più sicuri dei piloti umani, perché l'essere umano ha dei limiti, soprattutto a livello di, detto per inciso, l'essere umano non è biologicamente predisposto per guidare una macchina, per questo che devi fare dei corsi e poi ti devi adattare, perché i sensi dell'essere umano sono fatti per andare a 7, 8, 10 km all'ora. Se tu mi porti a 100 km all'ora devo fare uno sforzo per adattare la mia capacità di reazione, reattività all'ambiente a un livello che non è quello naturale. Una macchina lo fa molto prima perché ha capacità di calcolo e si adatta molto meglio a queste cose, quindi il tassista o il conduttore di pullman automatico sarà molto più sicuro del pilota umano. Cosa comporterà questo? Come in tutte le rivoluzioni industriali, quel paio di rivoluzioni industriali che abbiamo passato, questo comporterà la perdita di alcuni posti di lavoro, perché la macchina farà meglio quello che sta già facendo l'essere umano. Nei primi due grandi balzi industriali c'è stato uno spostamento degli esseri umani verso i servizi, il punto è che adesso stiamo andando verso i servizi, cioè prima la rivoluzione industriale ha riempito dei lavori nell'industria e quindi l'essere umano si è spostato a andare a cercare dei lavori verso i servizi, terziario e quaternario anche. Oggi l'intelligenza artificiale andrà a coprire questo, e il problema è che non c'è un quinquenario, almeno che io sappia. Non ci sono dei lavori di un'altra classe, quindi la soluzione sarà prevalentemente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di esseri umani, che è un po' quello che una volta la gente che sapeva scrivere scriveva per gli altri che non sapevano scrivere. Ci sarà l'alfabetizzazione informatica di intelligenza artificiale, cioè gente che saprà usare l'intelligenza artificiale. Giornalisti, giornalisti che con l'intelligenza artificiale scriveranno dei pezzi più velocemente, anche di migliore qualità, senza errori, sia di scrittura sia di concettuali, senza scrivere panzanate, perché il giornalista si basa sulla sua memoria, che può essere eccezionale ma qualche panzana magari la dice. Un computer no, un computer è un database a cui accede e se c'è un dato lo prende, se non c'è un dato non lo prende e non dice una cosa che non è giusta. Quindi ci sarà sicuramente il lavoro di chi dovrà gestire l'intelligenza artificiale, i lavori saranno di chi saprà usare l'intelligenza artificiale e di chi ne avrà il controllo anche, perché ovviamente ci saranno degli enti che avranno l'accesso al codice di questa intelligenza artificiale, poi se ce ne saranno più di una probabilmente non ci sarà il rischio di avere un controllo, se ne fosse una sola sarebbe pericoloso. Se ce ne saranno più di una sicuramente ci sarà una competizione per cui ci sarà una sintesi di intelligenza artificiale che è al servizio dell'umanità più che, o comunque almeno di quelli che la gestiscono, nei limiti di quello che è possibile quando ci sono operatività umane. Quindi il futuro è quello di cercare di capire al meglio come si sta muovendo questa nuova realtà senza pretendere di sfidarla. è ovvio che ancora adesso se uno guarda il chat GDP quella gratuita la qualità del servizio non è eccezionale, ci sono, fa errori, a volte veramente fa proprio degli errori, se volete vi metto dei link sotto su, e soprattutto la qualità per esempio degli articoli scritti non è in grado di avere, ovviamente quella gratuita, non ha quella rosa di espressività che ha un essere umano di esperienza. Però non è una cosa che secondo me richiederà molto tempo. Penso che già quella a pagamento sia molto meglio e andiamo in quella direzione lì. Il futuro quindi è quello di conoscere bene questa realtà, saperla gestire, poi c'è chi dice, ma ho letto qualcosa di Susking, Leonard Susking, che dice che probabilmente arriveremo a una società in cui ci sarà un reddito universale per tutti, anche perché probabilmente la popolazione umana, io non so se abbiamo raggiunto il picco, ma la tendenza è quella di una riduzione della popolazione, perché per motivazioni biologiche e sociologiche eccetera, c'è una bassissima natalità nei paesi avanzati e si sta arrivando a quello anche nei paesi in via di sviluppo. La Cina stessa ormai ha raggiunto il picco, sta perdendo popolazione, attenzione. L'India è ancora un po' indietro, ma andrà sicuramente a una riduzione, quindi ci sarà un migliore, e questo è positivo da un punto di vista dell'impatto dell'impronta ecologica, da un punto di vista del sostenimento della società è un po' problematico perché ci saranno sempre meno generazioni, due cose, meno generazioni che sostengono economicamente quelli che vanno in pensione. Due, l'enorme comunque sviluppo economico, tecnologico ma anche economico, che abbiamo avuto dal dopoguerra ad oggi è stato sostenuto dalla natalità. Se la popolazione non solo rimane stabile ma si riduce, quindi ci sono meno giovani, c'è meno gente in generale eccetera, l'innovazione ce n'è di meno perché ci sono meno chimici, meno matematici eccetera. Questo però potrà essere paradossalmente contenuto dall'intelligenza artificiale che ha le velocità e le potenzialità di migliaia di persone contemporaneamente. Quindi non credo che sia necessariamente qualcosa di negativo, è ovvio che c'è un grande cambiamento in atto, che ci sarà dello stress. Sansky, Leonard, dice che forse si arriverà a un reddito universale. Se ci sono le risorse sì, se ci sono le risorse e la volontà di distribuirle sì, perché tanto, detto per inciso, le società classiche erano quasi tutte delle società comunitarie distributive, per il romano, altri imperi. Non è che c'era solo il lavoro e chi non lavorava moriva di fame. No, c'era una tendenza della società di distribuire un minimo di ricchezza con grandi sperequazioni eccetera, ma c'era la tendenza comunque di mantenere in basso fino allo schiavo per arrivare ovviamente al riccone che non aveva bisogno eccetera. La società umana è sempre stata distributiva ed è così che sopravvive. Se diventiamo troppo competitivi, un pochino riesce a lavorare, non trova lavoro, deve morire di fame. Se è una persona sola, la società la regge diventa una cosa diffusissima, ci sono delle situazioni sociali che poi non sarebbero, porterebbero a rivoluzioni eccetera. Queste sono digressioni sociologiche. Io credo che appunto ci sarà una rivoluzione in atto e che la soluzione migliore sia quella di seguire attentamente come si sviluppa l'intelligenza artificiale e per noi poveri mortali che non siamo quelli che hanno scritto il codice, di imparare a interagire con l'intelligenza artificiale al meglio, di modo da conoscerla, da riuscire a comunicarci, vedere le potenzialità del suo uso più utili, anche per un'ottica di qualche funzionalità, di qualche utilizzo pratico per tutti i giorni e continuare appunto a conoscerla per poterci interagire al meglio. Un po' come quando una volta si imparava a scrivere per poi scrivere per gli altri o si imparava un'altra lingua per poter fare il traduttore per gli altri. La lingua c'è già, tu quello che puoi fare è impararla e fare da traduttore per gli altri. Vi ringrazio per avermi seguito, attendo le vostre opinioni sull'intelligenza artificiale che è un argomento che secondo me ci riguarderà pesantemente tutti nei prossimi 5-6 anni, forse qualcosina di più, forse qualcosina di meno. Grazie per aver seguito, al prossimo video!